Eccomi qua, il mio giro nel Borneo continua, questa è la moto che ho preso a noleggio, una moto mezza sderenata, non funzionano i freni, guardate la manetta del freno, non funziona, ma non è questo che volevo farvi vedere, siamo in un'autostrada nel bel mezzo del Borneo, guardate che paesaggio è veramente eccezionale, stupendo, questa autostrada è evidentemente nuovissima, è un obrovero, chissà quanti alberi, alberi del tutto fantastici, perché qui la natura è meravigliosa, molto variegata, ogni albero è diverso dall'altro, ci sono 3000 specie floreali solamente per quanto riguarda gli alberi, altrettanto per quanto riguarda le piante con i fiori, il paesaggio è stupendo e qui ci troviamo in questa autostrada autostrada d'asfalto vuota e a dire la verità mi devo ancora anche abituare a viaggiare stando sulla sinistra, perché qui la guida è all'inglese, essendo è stata una colonia inglese hanno quel brutto vizio di guidare dall'altro lato, non è tanto guidando che la cosa risulta difficile, che dà fastidio, più che altro andando a piedi che a volte attraversi e rischi davvero di finire sotto una macchina perché guardi se arrivano macchine dal lato sbagliato. Comunque eccoci qua, il paesaggio stupendo, abbiamo queste montagne ricoperte con delle pareti interamente di alberi, alberi enormi, un paesaggio incredibile. Questo sono io, a riprova che ci sono, sono io veramente che sto effettuando il filmato. Eccomi qua con questa bella moto che godo il paesaggio. Sì, essenzialmente posso dire che ho fatto bene a prendere una moto così, ho grandissima libertà di spostamento, posso, se metto un posto di interesse sicuramente più bello, però ho qualche riportaggio e in questo modo posso provermi veramente dove ho intenzione di andare senza stare vincolato ai mezzi pubblici che ci sono, sono anche molto frequenti, comodi, con il climatizzatore, ma io preferisco viaggiare in questa maniera qua, semplice, un evento in pace in moto. Ok ragazzi, ci salutiamo con queste bellissime immagini, ecco guardate che bellissimo paesaggio, e il mio viaggio in moto continua. Ok, ciao ragazzi, alla prossima, ciao!